Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo ovviamente se ritenete utile giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare. Io vi benedica, è la Santa Vergine che protegga. Stiamo appunto parlando dei messaggi di Schio sotto il tema Pericolo per il mondo, questa è la seconda parte. Vedremo tuttavolta un'altra serie di messaggi molto edificanti che Maria Santissima la religione dell'amore dà in relazione alla delicata situazione presente. Faccio notare che la volta scorsa abbiamo cominciato a meditare dal 1985, gli ultimi sono del 2000, stiamo adesso più o meno a metà dell'opera e riprendo da quello da cui siamo fermati la volta scorsa se non ricordo male che l'abbandono a libertà dei sensi e dei costumi conduce il popolo di Dio nell'abisso mortale. l'abbandono a libertà dei sensi e dei costumi. In modo particolare nel periodo estivo guardate al fondo non c'è veramente mai limite. Ce l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, penso che tutti li abbiamo, adesso dovrò scrivere presto tardi un tweet che dovrà essere significativo, gli scempi che sono stati compiuti adesso ormai a cielo aperto in maniera veramente sprocedata e dissacratoria. Ho letto da qualche parte, non so se è vera, se è confermata questa notizia, che addirittura un imam è andato a lamentarsi perché era stato sbeppeggiato il nostro Signore Gesù Cristo, perché i maomettani considerano Gesù un profeta e chiedono almeno un minimo di rispetto per un profeta. Purtroppo in questa nostra società un pochino mass mediatica, io a volte sono un po' preoccupato, nel senso che queste cose sono sconvolgenti, ma siccome siamo sempre bombardati da una raffica di notizie che c'è chi più ne ha più ne mette, che una peggio dell'altra, io purtroppo lo vedo anche in me, ci si corre il rischio quasi di assuefarsi a questo ammunnezzaio pazzesco, ma purtroppo non è così. In qualche messaggio successivo, faccio un attimo un jump perché se ne è qualcun altro tra quello che ho letto e questo che ho letto adesso, che è interessante, dove Maria Santissima dice, è urgente che in ogni parte si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Ora, non ci vuole la scienza infusa, insomma, per purtroppo constatare che questo appello accorato di Maria Santissima, certamente non è stato accolto, perché il grave decadimento spirituale e morale si è tutt'altro che arrestato dall'89 oggi, io all'89 c'erano manco 18 anni, il primo gennaio dell'89, ma non avrei mai immaginato di poter vedere o assistere a certe cose quali quelle che si vedono oggi. Una volta che i Pride li facevano soltanto a giugno, adesso continuano a luglio, agosto, a settembre, e tagliano. Veramente non se ne può più. E dispiace, anche sinceramente dispiace, vedere il silenzio, cioè è brutto che parla un imam, e adesso non lo so, perché purtroppo io non vedo delle giornali della TV generalista, quindi le mie fonti sono social network di aggiornamento delle informazioni. Non lo so se qualche vescovo in Francia o in Italia, spero che qualcuno sì, abbia detto almeno qualcosa insomma, dinanzi a certe cose, no? Perché non è possibile tacere del tutto, c'è il proverbio popolare che dice che chi tace consente, insomma, non è possibile, non è possibile assofarsi dinanzi a queste cose. La Madonna, in un messaggio precedente a proposito di questo, dice, affida ai miei consacrati e a quanti a me si affidano alla ricchezza dell'opera di cooperare alla salvezza dell'umanità che in perterrita non arresta la sua corsa nella strada sbagliata. Presumibilmente, qui poi Oscar mi correggerà se sbaglio, la Madonna parla di miei consacrati, quindi di coloro che sono consacrati a lei, quindi evidentemente non i consacrati in senso, come dire, tradizionalmente inteso, no? Quindi consacrati, i sacerdoti, i suoi professori, le frati, i monaci, eccetera. Ma i consacrati a lei, è chiaro che i consacrati a lei devono stare, io, sempre raccomandato, all'avanguardia, d'accordo? E per questo che, specialmente chi fa forme di consacrazione significative, ogni tanto mi vengono, mi chiedono, mi fanno, no? Ricordo anche i primi anni di ministero sacerdotale in cui, in esperto, insomma, hanno tutto quanto contento, quando una persona diceva, voglio fare una consacrazione monfortana a Maria, ero tutto contento, dicono, ma certo, falla, no? Il problema è che una persona che fa una consacrazione monfortana a Maria, quindi dice, voglio essere tuo schiavo d'amore, come dire, si pone un pochino all'avanguardia, non può poi, a parole o a fatti, dare fondamentalmente una controtestimonianza, quindi non presentarsi, non comportarsi come una collaboratrice di Maria Santissima, appunto, nel collaborare con lei, perché l'umanità si arresti, arresti la sua corsa verso la strada sbagliata, no? Quindi, è assolutamente fondamentale, è chiaro che quello che noi possiamo fare, fondamentalmente, almeno a mio parere, si situa su un binario, su due livelli. Prima, la testimonianza, cioè noi non possiamo assolutamente conformarci e adeguarci a queste modalità, a questi schemi. Chi vuole essere un cristiano deve puntare in alto, secondo l'altro stile di vita che ci propone il nostro Signore. E poi, con la parola, nei limiti del possibile, ovviamente rimanendo sempre nei fiambi del lecito, del proponibile, però nel piccolo alcune cose, certamente senza assumere toni apocalittici o da profeti, come dire, mezzi pazzoidi, insomma, però con toni anche pacati, perché non serve strillare, ma anche fermi e determinati nel trocamare il bene e denunciare il male, però qualche cosa bisogna dirla, bisogna farla. La condanna del male deve essere ferma, deve essere senza se e senza me, senza ma, no? Ancora un altro, diciamo in maniera, in modo un po' analogo a quello che abbiamo appena sentito, no? Maria Santissima che dice, vi chiamo a dividere con me la preoccupazione per questa umanità che non percepisce ancora il mio richiamo e si sta schiantando contro la roccia con la R maiuscola. qui richiama il Vangelo, no? Questo è un appello drammatico, guardate che la pietra scartata dai costruttori è divenuta destata d'angolo, disse Gesù ai suoi contemporanei, dice, chi scarta questa pietra ci si sfracelerà addosso, non è che si può scartare questa pietra senza conseguenze e purtroppo, 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 questo è quello che è successo in Europa, questo è quello che è successo senza nessunissimo dubbio, senza nessunissimo dubbio, la roccia è stata scartata, punto, e c'è il pericolo, stiamo sotto questa spada di Dammoglè, questa roccia scartata ci si schianti addosso, ci si schianti. Un altro messaggio molto molto significativo, a mio avviso, è quello del 10 maggio dell'89, poi però vorrei anche dare un attimo un'occhiata con l'aiuto di Oscar a una serie di messaggi che Gesù ha dato sullo stesso argomento, qui sono molto significativi, però dice laconicamente Ritiratevi, non partecipate alla folle corso del mondo verso l'abisso, ritiratevi, cioè io questo ritiratevi lo intendo come un chiamatevi fuori, chiamatevi out, cioè volete andare a fare questa corsa al massacro, insomma allo sfracellamento, sentite, buon divertimento, ma io mi chiamo out, cioè non è possibile, non è possibile, non possiamo assolutamente conformarci al mondo, dobbiamo essere coraggiosi e prendere le distanze, mi ricordo se ieri o proprio stamattina, mi sapevo stamattina, durante la maniera di questa mattina che dovrebbe essere uscita alle sette di questa sera, cioè con le letture che c'erano, dicevo, sì sì c'era proposta stamattina, che non è possibile per esempio essere cristiani e andare a guardare certi tipi di trasmissione proprio completamente spazzatura che si fanno tutti i santi giorni, sono i talk show pomeriggi, io non sono molto pratico, ma purtroppo mi ricordo, li ho conosciuti come, andando a benedire le case, tutti quanti i santi pomeriggi, generalmente questo si fa perché la mattina c'è nessuno a casa, tutte le televisioni accese e tu, a volte devo dire scusate potete spegnere un attimo almeno per fare la preghiera per l'incendio della casa, ma qua la spegno la gente, cioè c'è quella cosa che suona con i novelli profeti del nulla, ma magari fosse soltanto del nulla, i profeti dell'anticristianesimo che lì sdottoreggiano e fanno parlare, danno voce al primo qualunque insomma che parla e che normalizzano tutto. L'omenico questa mattina diceva, andatemi ci cari, cioè noi non è che possiamo, perché sto la Madonna dice, ritiratevi, tu non è che ti puoi vedere quelle cose, diciamo io le guardo per curiosità, cioè per sapere anche come la pensa il mondo di oggi, però io tanto poi ho le mie idee e mi tengo le mie, non funziona così. Non funziona affatto così, perché se tu tieni quel disco tutto il giorno sintonizzato su quei canali e dentro il cervello ti continuano a strapanare queste cose qui, tu ti ritroverai a pensare esattamente come loro, senza che te ne sei nemmeno accorto. Cioè noi non possiamo pensare di essere così sciocchi e di poter vedere tutto, ascoltare tutto e tanto a me non mi fa né caldo né freddo, non è così, non funziona così. Cioè noi dobbiamo essere umili, non siamo fatti così, siamo spugne, siamo recettivi. Da questa roba, il libro dell'Apocalisse, fuggite da Babilonia per non avere parte ai suoi castigli e per non prendere parte alla monnezza che fanno, punto. Cioè ci sono alcune cose che noi non le possiamo fare. Cioè un cristiano non può vedere un talk show di quella roba. Primo perché guardandolo approva indirettamente quello che fanno e secondo perché si attossica. Ritiratevi. Via. Non partecipate alla folle corsa del mondo verso l'abisso. Non possiamo stare dentro queste logiche. Non si può. Allora vorrei un attimo, giampiamo un attimo a qualche messaggio di Gesù. Non mi ricordo la volta scorsa quali è che abbiamo già fatto perché ne ho evidenziati diversi. Quindi spero di non ripetere ma tanto facciamo che ripetita Juvent, no? Non li abbiamo fatti l'altra volta. Neanche uno. Quelli di Gesù, no? Ah, fantastico. Ci sono tutti da vedere. Allora. 18 agosto 1990. Quindi cominciamo. Questi sono veramente da vedere. Questo che abbiamo fatto anche la seconda puntata. Miei cari, siate moderati e sobri. Sia pura e santa la vostra vita. Non inquinate il cuore. Siate svegli lontani dal pericoloso torrente di perdizione. Lo attraverserete quando saprete navigare. Affronterete allora l'impetuosa corrente. Dividete allora le acque pure dalle acque torbide. Dalla mia barca voi parlerete chiaro. Non approverete e non giustificherete. Non permetterete di creare una morale nell'impurità. Sarebbe sfidare la mia collera. Non permetterete che la morale si riduca in cultura. Non lo so se c'è da commentare questo messaggio qui. Perché talmente parte il fatto che è come dire assolutamente in perfetta linea con il ritiratevi. No. Siate moderati, sobri, sia pura e santa la vostra vita. Non inquinate il cuore. Esattamente quello che dicevo. Se tu ti metti in contatto con monnezza, il cuore non ne esce illeso. Ne esce inquinato. E bisogna stare lontani dal pericoloso torrente di perdizione. Io adesso non vorrei essere troppo esplicito. Un po' di tempo fa sappiamo bene che è morto un personaggio, che è stato anche un politico, ma che è stato fondatore di queste cose qui. Io fidiamo le sue anime alla sua anima, la mia misericordia. Però un certo modo di fare televisione è stato purtroppo inaugurato da certe reti. Quella è spazzatura quella lì. I reality show, appunto i talk show dove si sdogana la qualunque. non sono cose innocue. Non è che in tv non si può vedere soltanto la pornografia, la violenza becera, i film horror splatter, o quelli dove dilaga il turpiloco in maniera selvaggia. perché sta roba qui purtroppo rovina le generazioni. Noi non possiamo, non è possibile. Lo dico perché se qualcuno sta compromesso con certe cose e ritiene di poter consigliare, come dice San Paolo, Cristo con Beliarra, deve fermarsi un attimo e deve fare un pochino di conti, deve fare un pochino di scelte. Non è possibile. Non è possibile. Il secondo messaggio di Gesù è ancora, per certi aspetti, ancora più profetico e ancora più forte perché apre una parentesi abbastanza inquietante e dolorosa. 12 gennaio del 1991 dice così Sì, sì, miei cari, una pericolosa insidia si nasconde oggi in troppe organizzazioni dal nome cristiano. Un tentativo di voler piegare Dio ai piani dell'uomo, mancando totalmente di fede, speculando su un irresponsabile provvidenzialismo. Miei cari, io sono con voi. Vi chiedo di capirmi, conoscermi sempre più, affinché mai vi mettiate contro la divina volontà pensando e lasciando capire che voi sapreste fare meglio ogni cosa. La verità, alle sue ore, le conosce e le sa attendere. Vegliata finché i vostri pensieri non cerchino di fuggio prima della gloria di Dio. Io sto un po' in difficoltà perché per certi aspetti questi messaggi sono abbastanza evidenti, per altri aspetti potrebbero essere ciascuno di questi meditati per qualche ora, insomma, ovviamente dopo diventerebbe complicato. Diciamo, volendo rimanere al cuore, è piegare Dio ai piani dell'uomo, organizzazioni dal nome cristiano. Oggi c'è il pericolo o la tentazione di voler ridurre in parte la chiesa a una onlus, oppure umanizzare tutto un po' troppo, speculando su un irresponsabile providenzialismo è chiaro, no? Io tante volte, in tante prediche, dico, sa ti po', ma tu la chiesa a che serve? Che ci sta a fare la chiesa sul pianeta Terra? A che serve? Perché anche, come dire, da un punto di vista di sdoganamento pubblico, diciamo così, se la chiesa, come dire, fa, ecco, comincia a parlare, aiutiamo i poveri, costruiamo gli ospedali, accogliamo i migranti, che caspita ne sono tutte queste robe qui, appunto, l'assistenzialismo, è questo l'irresponsabile providenzialismo, punto interrogativo, umanizzato, piegare Dio ai piani dell'uomo, intende questo Gesù? Forse. Se la chiesa fa queste cose, ah vabbè, non c'è nessun problema. Perché non si metta a parlare però di peccato, di morale, di inferno, di vita eterna, di cose di questo genere, perché sennò qui non ci siamo, no? Cioè, la chiesa deve assolutamente conservare una voce profetica oggi più che mai, cioè non possiamo assistere, stare a guardare dinanzi al diragare del mare del pubblico scandalo, non è possibile. Però, se si fa questo, si diventa politicamente scorretti e si possono andare incontro a tanti tacciamenti di vario genere, no? Attacchi di vario genere. Però, se la chiesa smette di fare questo, perde la sua ragione di essere, perché la chiesa non sta al mondo per, come dire, sovvenire i poveri. Cioè, per carità di Dio, questa è una cosa importantissima. Stamattina, chi mi conosce, la meditazione sui scritti di Suorce Città Bella, tutta incentrata sull'importanza delle opere di carità, del sovvenire chi sta in difficoltà, chi si trova messo male su tanti punti di vista, visitare gli infermi. Questo è una parte, come dire, evidentemente importante della missione della chiesa, ma non è la principale. Perché la chiesa sta nel mondo per portare la salvezza, la chiesa sta nel mondo per annunciare la vita eterna a Gesù Cristo, per ristruggere le opere del diavolo, per salvarci dalla dannazione eterna. Questa è la cosa principale. Il resto, come dire, è corollario, accompagna, è parte integrante, anche per certi aspetti, ma non è la ragion d'essere della chiesa. Non è questa. 26 generale 1991. In verità vi dico, gran parte del mondo mi allontana, molte volte ostile. Molte nazioni che si dichiarano cristiane, hanno legittimato grandi e gravi delitti. Stiamo nel 91, stiamo. Grandi e gravi delitti. C'è l'aborto sicuramente, ma non c'è soltanto l'aborto. Perché la distruzione delle famiglie e dei matrimoni è un grande e grave delitto. sicuramente, 100%. E non solo questo. Io sto chiamando e preparando uomini dal volto umano con il cuore aperto e disponibile a seguirmi. Io conosco il grande pericolo che incombe su questa generazione a causa del peccato. Ho chiamato anche voi per prepararvi non solo a superare la prova uscendo dalla desolazione, ma invitandovi ad essere anime di preghiera nella contemplazione, per confortificarvi anche nella sofferenza, cosicché dopo la mia giustizia avvenga l'ora della mia misericordia. Questo è un altro messaggio molto molto importante. Un'azione che si dichiarano cristiane che hanno legittimato grandi e gravi delitti. Gli avvisi più gravi sono quelli contro la vita e quelli contro la famiglia, la distruzione totale. E contro la famiglia, non importa niente di quello che succederà, significa anche, come dire, la legittimazione dell'omosessualismo, del genere, tante queste robe qui. girano adesso, anche in certi ambienti dove non dovrebbero girare. Delle cose, io pastoralmente parlando, a volte parlo anche, mi chiamano, mi scrivono, famiglie dicono, mio figlio, mia figlia, mi ha confessato che c'ha questa cosa, e mi ha detto, se mi vuoi bene, tu devi accettarla questa cosa. Perché se non accetti questa cosa, vuol dire che tu non mi vuoi bene. Adesso, del resto, ci sono leggi, tutele di vario genere, quindi, questi buoni genitori stanno in difficoltà, perché stanno in confusione. Che devo fare? C'ha ragione? Cioè, se io li voglio bene, la devo accettare, perché la devo comprendere, perché poverino, poverina, sta in questa situazione, sta in questa realtà, e cosa devo fare? Lui ti dico, guarda. Quello che hanno insegnato i grandi maestri di spirito è questo, che un genitore, al figlio, deve sempre volere bene, sempre, deve sempre dirgli, tu sei mio figlio, io ci sono, e ti voglio bene. La porta della mercata è sempre aperta, per ogni questione. ma se tu imbracci una via che si allontana dal bene oggettivo, io non ti posso dare la benedizione, non ti posso dire non fa niente, non posso fare pinta di niente, non posso accettarla questa cosa. Io non credo che ci voglia tanto, insomma, a capire una cosa. Soffrirai, ma certo che soffrirai, perché tutti noi vorremmo fare quello che ci pare, perché questo è un grande problema del mondo moderno. Il problema non è che tu vuoi fare quello che ti pare, ma tu vuoi che fare quello che ti pare sia benedetto e quello che sta facendo il mondo e che reclama anche dalla Chiesa, che purtroppo a volte, non la Chiesa complessivamente parlando, ma certe voci che circolano nella Chiesa sembrano quasi a parlare, cioè non solo voglio fare il male, o voglio fare il male e tu mi devi dire che non sto facendo niente di male, o addirittura mi devi pure benedire il male che sto facendo. Ma questo non è possibile, questo qui, no? Non è possibile. Prego. Sì, a proposito del problema oggi, Don Leonardo, delle convivenze. Ci sono molti genitori della nostra età che vivono questa esperienza, nel senso che hanno i loro figli che convivono. Ecco, in questi casi, e sorge anche un problema un po' di coscienza, no? Perché da un lato c'è magari la parte, la modalità estrema di colui che dice no, io non accetto, tu non parti più vedere, io non sono disposto ad aiutarti, non... dall'altra c'è chi invece dice ma è meglio comunque tenere un filo col figlio e quindi i mari genitori, le mamme soprattutto, che vanno, che li aiutano, che fanno delle pulizie, che li invitano a pranzo e così via. Secondo lei, ecco, cosa in questi casi, non è facile dare una ricetta, però qual è il criterio, secondo lei, più corretto? Il criterio è quello che ho detto, poi le declinazioni concrete, è ovvio che ogni singola persona deve mettersi davanti al Signore e farci un pochino di preghiera sopra, cioè, a mio avviso, il messaggio deve essere duplice, non è che non ti voglio vedere più manco scritto al muro, esci di casa, non ti riconosco più come mio figlio, non mi sembra certamente una via da percorrere, perché può far indurre la persona, sia la disperazione, sia anche, come dire, ha un incattivimento, un incancrenimento nel male, cioè te lo faccio a sfregio, siccome tu ti metti a fare così, se c'è una mezza intenzione di sposarmi magari in chiesa o domani, non lo faccio apposta perché tu mi hai adattato così, no? Quindi, la linea, come dire, estrema, sotto questo punto di vista, non mi sentirei di consigliarla, però non si può neanche andare dalla sponda opposta, cioè, come se niente fosse, si tratta come se fosse una famiglia, usciamo, entriamo, come se niente fosse. Questo non è possibile, quindi bisogna trovare il modo per dare dei segnali di dissenso, di dire, tu sei mio figlio e come tale ti riconosco e ti accolgo, però, quello che stai facendo è male, e io questo non lo posso avallare, quindi, come questo si traduce nei comportamenti concreti, qui ci sono varie, varie scuole di pensiero e anche varie possibilità di scelte concrete da adattuare, e questo è una cosa che, ripeto, aspetta alla coscienza delle persone, mettersi davanti a Dio, perché il Signore non manca di illuminare, dire, guarda, per il bene di questa persona devi fare questo, la mia esperienza pastorale mi ha fatto conoscere anche a volte scelte coraggiose che hanno fatto certi genitori, è chiaro che nell'immediato, cioè defini mondo, succede, ovviamente, nel medio e lungo periodo può succedere che qualcuno poi ti venga a dire grazie, ho sofferto tanto, ma se non avessi avuto questo segnale forte da parte tua che comunque non mi faceva stare tranquillo, perché una notte andavo a dormire tranquillo perché con una reazione di questo genere non avrei mai capito lo sbaglio che ho fatto e non mi sarei mai rappeduto. La virtù sta sempre nel giusto mezzo tra il buonismo e l'integralismo estremo, insomma, quindi le posizioni troppo radicali che sia l'uno che l'altro produce sempre gli effetti controproducenti. Occorre trovare quella via e calibrare dentro quella quella via che tu sei mio figlio però io non ti posso come padre e come madre anche se c'hai 30 anni perché da 30 anni non ti posso mettere le catene se puoi fare certe scelte le fai. Se puoi andare a convivere se sei un maschio con un uomo non ti posso mettere le catene. Se puoi andare a convivere con una donna anche se non ti posso mettere le catene non te lo posso impedire. materialmente perché non sei più sotto la mia autorità perché sei grande eccetera eccetera però posso dirti in qualche modo a parole e a gesti che stai sbagliando. come? Questo è io non 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 si farà la scelta giusta esplicito anche perché è importante che le persone imparino su queste cose a fare un discernimento circostanziato sulla base appunto di questi criteri si farà la scelta giusta se ci si muove dentro questo orizzonte in questo binario tu sei il mio figlio io sono tuo padre sono tua madre e come tale tu sarai sempre trattato ma quello che stai facendo è sbagliato e in quanto tale io non te lo posso avallare né direttamente né indirettamente se lo capisci lo capisci se non lo capisci lo capirai quando tornerai in te se tornerai in te e se non risposto adeguatamente alla domanda di oscar insomma perfettamente grazie allora e qui c'è un messaggio ancora più impegnativo 25 maggio 91 molti oggi sono nemici della fede e il mio greggio è in pericolo perché molti pastori rendono deserto il santuario adesso qui sarebbe da chiedersi in che senso e perché rendono deserto il santuario che cosa fanno per rendere deserto il santuario perché qui poi si apre chiaramente il fronte della discussione posso fare qualche esempio concreto se quando specialmente in questi periodi un pochino calienti non solo io ma anche le persone che per grazia di dio custodiscono il luogo sacro quando fermano qualcuna che scambia la spiaggia che cambia la chiesa con la spiaggia sistematicamente lo fanno anche con me dicono a continuate pure a fare così così le vostre chiese resteranno deserte questo dicono è questo parla di questo nostro signore oppure si rende deserto il santuario perché appunto si è persa proprio come dire la ragione d'essere del santuario perché se il santuario diventa un mercato o per quanto riguarda le chiese dati o qui c'ho la dimostrazione un museo quindi la chiesa diventa fondamentalmente un luogo da visitare per guardare le opere d'arte e basta oppure un mercato perché prima durante dopo le celebrazioni o comunque nei momenti in cui le celebrazioni non ci sono non c'è nessuna differenza tra la chiesa e un salone o un mercato appunto dove si ghiacchiera si si comporta in maniera totalmente dissacrante rispetto al luogo sacro e chiaramente chi dovrebbe essere preposto a fare queste cose non fa niente non dice niente oppure una liturgia troppo come dire mondanizzata che prolifica di schitarrate come canti palloncini o ritrovati di questo giacartelloni ecco omelie che sono sempre monotematiche su quattro cose trite e ritrite ma che non non aiutano la conversione non aiutano la crescita spirituale delle gregge qui ognuno si faccia un'idea sua come mai che molti pastori rendono deserto il santuario ci sono varie teorie ovviamente alcune sono inconciliabili tra loro e vero una e vero l'altra Gesù prosegue in verità vi dico cruenta si farà la battaglia tra il bene e il male e ancor più dolorosa e profonda si farà la ferita al mio cuore già martoriato questo sono 33 anni fa questo messaggio qui miei cari non rendetevi colpevoli di omertà ed indifferenza avete l'omertà no? l'omertà è quella che cade giù tra mafiosi camorristi e indranghetari io non ho visto niente io non so niente l'indifferenza il mondo va a fuoco peggio per lui mi faccio da fare i miei no questo è un tempo in cui avere il coraggio di applicare lo spirito di profezia ripeto in parole e in esempi profeti che vennero prima di voi sono stati perseguitati e uccisi ma attraverso il loro coraggio si aprirono le vie della verità questa è una dimensione proprio intrinseca della vita cristiana la persecuzione coloro che vogliono vivere vivamente in Cristo saranno perseguitati inutile sarà cercare le prove e proseguo la lettura tutto e prova la società violenta è percorsa da sussulti di violenza criminale e bestiale in cui la vendetta è legge e l'odio è norma di vita e i miei spesso gridano basta ma lo fanno per una difesa di loro stessi e per la loro tranquillità questi sono gli ipocriti profeti della non violenza ipocriti profeti della non violenza la non violenza non è affatto in quanto tale un distintivo del cristiano perché ci sono varie e varie forme di declinazione della non violenza qui sono tutte le tematiche attuali, tutte le polemiche che sono successe sappiamo, polemiche di attualità è stato cancellato dal carichismo il discorso della pena di morte è stato detto che la pena di morte è assolutamente sempre e comunque da bandire dato che stride con ciò che è stato affermato dalla tradizione cioè la non violenza gratuita e assoluta è sempre un valore quindi significa che se qualcuno ci invade gli diciamo benvenuto io non mi posso difendere quindi prendi di voluta l'altra Italia o robe di questo genere io chiedo a voi una libera accettazione del mio insegnamento nell'adesione dell'intelletto alla verità e nell'abbandono dell'anima alla grazia questa frase prima Oscar l'aveva messo in sua impressione questa frase qui bisogna fare copia e incolla mettersela dentro la camera e meditarci tutti i giorni libera accettazione libera accettazione del mio insegnamento la libertà perché nell'adesione dell'intelletto alla verità l'intelletto alla verità cioè tutta quanto una serie di comportamenti che oggi vediamo in giro non sono comportamenti semplicemente contrari alla fede ma sono follie allo stato puro cioè che se una persona semplicemente ragionasse anche a prescindere da un'ottica di fede ma ragionasse chiaramente connettendo i neuroni e rimanendo aderente al principio di realtà direbbe ma che me ne dico ma ci stiamo impazzendo perché l'accettazione dell'insegnamento l'insegnamento di Gesù è sommamente ragionibile non è una cosa che dice vabbè io io devo privarmi della ragione per aderire a Gesù questa è la posizione che c'hanno i protestanti ma questo non è vero perché Gesù è il logos divino è il verbo è l'intelligenza divina quindi tutto quello che Gesù insegna e propone è sommamente ragionevole come hanno dimostrati i grandi dottori della chiesa un santo maso d'Aguino un santo Agostino un santo Giovanni Grisostono geni che hanno come dire sviluppato un acume intellettuale straordinario dentro l'orizzonte della fede non contro l'orizzonte della fede quindi l'intelletto aderisce alla verità e l'anima si abbandona alla grazia sì miei cari io sarò per sempre con chi con chi è con me sempre sono veramente forti e belli questi messaggi se luglio 1991 dice liberate la vostra preghiera da ogni ipotesia da ogni ostentazione da ogni compromesso e dal pericolo dell'abitudine per questo voi siete chiamati ad essere uomini nuovi testimoni nell'amore alla mia chiesa cattolica che deve emergere nella verità le vostre parole dovranno essere le mie parole e dovranno come spade tagliare pareti nebbiose dividendo le nubie per far apparire un cielo dimenticato capito cosa sta dicendo il signore nella chiesa che purtroppo non in quanto tale ma in certi suoi settori ha ceduto ad alcune tentazioni allo spirito del mondo deve esserci chi ha il coraggio ovviamente rimanendo in essa amandola soffrendo in essa con lei e per lei però deve avere il coraggio di essere espressione della parola di Gesù la spada San Paolo è rappresentato con la spada perché la spada è il simbolo della predicazione autentica cattolica la spada taglia nella lettera degli ebrei si è scritto che la parola di Dio è affilata come una spada a doppio taglio che penetra nel punto di divisione dell'anima e dello spirito una predicazione autentica è tagliente tagliente in senso buono cioè è tagliente nel senso che divide le nubi per far appaire un cielo dimenticato è bellissima questa immagine adesso tra la terra e il cielo è stata messa una sorta di colt il cielo non si è ripeto da nessuna parte siamo tutti accappati dentro sta cosa questo appiattimento su orizzonti mondani bruttissima cosa bruttissima cosa adesso non voglio cioè l'anno l'estate scorsa non so se l'ho già detto durante queste catechesi cioè abbiamo visto c'era la messa dentro il mare con il materasino a petto nudo a preti o da un altro c'è un video che è allucinante a un moto raduno intervallando la celebrazione della messa a chiacchiere a cose ma stiamo scherzando queste robe 60 anni fa fino a quando c'era ancora non erano neanche io credo che se uno l'avesse fatte vedere come dire come un film a qualcuno e gli avrebbe detto ma queste cose non succederanno mai non succederà è impossibile che nella chiesa cattolica si vedano mai robe di questo genere eppure si sono viste ci sono viste uno non può fare finta di niente quindi rimane indifferente o fare l'omertà preghiamo certamente per queste persone perché si convertono perché capiscono quello che stanno facendo però insomma prego Oscar si volevo fare un piccolo jump indietro al messaggio di prima in cui Gesù parlava ecco il mio greggio è in pericolo perché molti pastori rendono deserto il santuario e poi più sotto appunto il divi maestro parlava di colpevolezza per omertà e indifferenza mi è venuto in mente finché leggevamo questo messaggio un breve messaggio di Maria che adesso vi propongo sono due righe proprio in cui con riferimento proprio alla vediamo eccolo qui ecco pensiamo alle prerogative dei sacerdoti dei pastori di coloro che sono chiamati a guidare i greggi e Gesù ci dice ci diceva prima che i sacerdoti hanno abbandonato i santuari cos'è il santuario è quel luogo spirituale in cui ci sono tutte le prerogative appunto per le quali i sacerdoti hanno diritto e dovere ecco di attuare ecco ciò a cui sono chiamati in funzione proprio del proprio status e qui c'è un riferimento nell'ultima parte che le chiederei brevissimamente di commentare chiedo scusa se così meglio di no non è temporanea l'ho vista il confessionale satana si pastra e chiede puori puri ai ministri giusti e responsabili perché la responsabilità è grande prego guardate io su questo purtroppo sono io ho incontrato gente perché a quanto pare che è tornata da grandi santuari perché poi queste cose accadono nei grandi santuari non vorrei fare i nomi per ragione di salita di opportunità ma sono santuari importantissimi in Italia ultra popolari dove c'è gente che torna che racconta che il confessore ha detto ma io sono sposato al comune ho detto io posso fare tranquillamente la comune se ti amata non c'è nessun problema fate la comune tranquillamente e me la prendo io la responsabilità io ricordo un caso che venni a scoprire in maniera del tutto casuale insomma c'era una persona non dico manco se maschio o femmina una persona tutta quanta devota tutta compita un bel giorno c'è fuori a sposare al comune e dico vabbè ovviamente vi vede castamente no quindi no no c'è la lezione di sposare mi chiese no e ti fai tranquillamente ma io sono stato al santuario X e mi hanno detto così e dico guarda che il santuario X può essere pure il santuario Y può essere pure il santuario Z non è che il santuario Y X non cioè che capito cioè io sono rimasto senza parole altre volte c'è male quante volte mi è successo ragazzotti con comportamenti sessuali disinvolti dice ah ma me il professore mi hanno sempre detto che se voi siete innamorati c'è nessun problema basta che non lo fate non dovete fare il sesso fine a se stesso però se non è il sesso fine a se stesso che siete innamorati si può fare io non ho sentito queste cose il signore mi è mi è mi è mi è testimone quindi purtroppo quando cioè capite questo messaggio dell'ottanta se non è una cosa che ricorre dall'altro ieri cioè io veramente non so che cosa gli dice nel cervello a tanti confratelli perché non so che cosa pensare o non ci credono cioè perché questo è un atto di una tale superbia prevaricazione che insomma io non sono umile purtroppo legate per me perché lo diventi cioè però insomma una cosa di questo genere non si cioè ma come non si può no cioè non è possibile che uno va cioè va contro i comandamenti in confessionale e conferma le persone non parliamo della contraccezione non parliamo della contraccezione la contraccezione è sdoganata da chiunque ah vabbè ma se hai fatto già il secondo e il terzo video non ti preoccupare che il signore capisce ma come il signore capisce chi te l'ha detto che il signore capisce cioè quindi questo è un problema cioè grave perché poi poverini è vero che ci stanno pure i maestri di spirito che dicono che se uno si va a cercare apposta il confessore che dà la manica larga e lo sa come starebbero le cose io mi ricordo una volta sto facendo una trasmissione su una nota radio non molto nota ma abbastanza si parlava proprio della contraccezione intervenne uno che fece una derogata in diretta e dice ah ma lei quindi sta dicendo che io mi comporto male dico in che senso dico che fai no perché io faccio così io uso la contraccezione con mia moglie però voglio fare la comunione però tutte le domeniche cambio cambio parrocchia abitare in una grande città la domenica vado alla parrocchia X mi confesso rimasto e faccio la comunione poi la domenica dopo ad un'altra parrocchia mi confesso e faccio la comunione dico beh appunto primo ha incontrato una serie di confessori che sono un po' sproveduti perché quando uno confessa una cosa del genere dice sempre ma questo è un incidente o tu c'hai questa abitudine perché se c'hai questa abitudine o continui questa abitudine o ti fai la comunione non è affatto cioè non è vero che una persona deve essere assolta sempre dovunque comunque ma tu sta scritto questa cosa qui la persona può essere assolta dai peccati se è pentita è chiaro che chi non è padre Pio non può guardare il cuore se una persona dice che è pentita vabbè ho capito non lo faccio più assolvimi se tu mi dici così io ti assolvo ma se tu mi dici prendo la pillola guarda che la pillola non si può prendere ah non lo dico per niente padre perché io figlio non li voglio più non ho già fatto i tre è finito io non ti posso dare la soluzione ma col papa devo dare la soluzione capito non è possibile perché tu mi stai me lo stai dicendo tu che non sei pentito me lo stai dicendo se dici questa cosa qui se un ragazzotto se un ragazzotto di 15-16 anni vai a dirmi noi abbiamo rapporti con la fidanzata fino a oggi da domani fate i bravi cominciate pregate vi aiutate reciprocamente e almeno il proposito lo fate di non averli più ah no non esiste cioè una cosa tanto bella noi ci vogliamo bene che male c'è dico che male c'è io ti rispetto perché se tu pensi questo per carità ma siccome la legge di Dio non pensa questo tu pensaci perché fino a quando pensi questo non stai d'accordo con la legge di Dio la comunione si può fare non è essere cattivi o essere rigidi o una cosa di questo genere essere giusti come diceva il messaggio se lo rimanda in sovraimpressione sarebbe cioè un confessore non può fare come ce pare un confessore deve essere giusto Sant'Alfonso ho mandato in stampa oggi l'ultimo libro che ho appena corretto quindi proprio ieri quando c'era il progetto della chiesa confesserai i tuoi peccati almeno una volta l'anno ci ho citato lì le raccomandazioni di Sant'Alfonso il confessore deve essere i quattro requisiti del confessore questi ricordiamoci tutti quanti deve essere padre certamente deve essere maestro maestro nel senso che deve aiutare a formare la la coscienza ma deve essere anche medico c'è qualche piaga alla cuore ma deve essere anche giudice giudice in senso stretto nel senso che c'ha dinanzi un caso e sa benissimo che perché Dio perdoni è un peccato deve essere confessato bene se è un peccato mortale e deve emergere per quanto è possibile conoscere il pentimento della persona perché il prete non è arbitro non è Dio è ministro e lui sa che Dio perdona ordinariamente a chi ha pentito pentito vuol dire quello che si dice nell'atto di dolore mi dispiace di averlo commesso lo riconosco come male e non dico che prometto che sicuramente non farò più ma propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti più questa cosa va verificata per quanto possibile poi il padre Pio si è andato fuori tutti quanti perché lui leggeva il cuore per lui era più facile per noi no ma comunque uno sta a dei criteri oggettivi a quello che emerge durante la professione prego si richiederei Don Leonardo siamo un po' fuori ahia fuori non per noi forse più per voi ai tempi non soliti però richiederei ecco di non tralasciare l'ultimo messaggio di Gesù guarda io me lo sono letto cinque volte oggi perché è un messaggio che ci vorrebbe una serata solo per questo l'ultimo poi alla fine si poi alla fine ti lascia proprio delle prospettive proprio veramente belle e io dico così io ho analizzato varie varie serie di messaggi di vari luoghi però quando il cielo ti lascia aperta la prospettiva ti lancia una mano ti manda un assist e anche secondo me il mio modestissimo parere un segno di genuinità anche perché alla fine il cielo quando parla è per darti un assist e di aiutarti a venire fuori ecco dalla miseria del peccato quindi le chiederei anche se sforiamo chiediamo pazientare è importantissimo sì sì sforiamo 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 allora andiamo in solle impressione 9 maggio 1992 questo non è che è importante di più è anche questo vi chiedo che difendiate il più grande dei risori dato a voi grande disgrazia miei cari grande malanno la profanazione del mio corpo e del mio sacro per questo peccato molti esperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio solo chi vorrà appartenere al mio regno che non è di questo mondo deve credere onorare ed adorare la via presenza di Dio quanto di ciò al contrario è delitto contro l'uomo e l'anima molti sono diventati maestri di eresia della tremenda colpa del tradimento di quanto per i vostri predecessori è la cosa più santa ora si va perdendo ogni traccia miei discepoli mentre pochi dei miei consagrati ascoltano i miei ricami io sto formando in ogni parte nuovi discepoli disposti a seguirmi in un'umiltà con amore la mia chiesa si è in pericolo ma non temete ci sarà una pesca miracolosa o alla mia rita tirerete la mia riva tirerete le reti e queste resisteranno anche se la quantità è agitata siate voi i miei pescatori umili e gioiosi per essere chiamati è evidentissimo siamo nel 92 attenzione in Italia tanto per fare un po' di date il 3 dicembre del 1989 è stata autorizzata la comunione in mano che non è l'unico problema ma sicuramente è un problema io questo ho sempre detto quindi non non temo di dirlo ho detto anche al vescovo quindi a mio mio personalmente quindi non 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 c'è niente da nascondere allora numero 1 la cosa più grave è la piaga delle comunioni sacrilege è la cosa più grave in assoluto perché oggi la gente va a costarsi alla comunione senza confessarsi e con sulla coscienza gravissimi peccati per cui oggi un povero prete cioè un prete dovrebbe essere contentissimo tutti quanti i parrocchiani si comunicano tutti quanti no? perché arriva a Dio è la cosa più bella che possa succedere ma non funziona così io di questo me lo so accorto subito già quando ancora ero vice parro quando cominciò ad ascoltare le confessioni subito cioè io temo che se non c'è un'operazione fatta bene da un parroco il 90% ma non mi tengo basso delle comunioni fatte sono sacrilege sicuro 100% perché su alcune cose non c'è più un briciolo di coscienza molta leggerezza c'è anche la gente salta la messa domenicale e tranquillamente si va a rifare alla comunione come se niente fosse quindi questa è proprio una pianga questa qui la seconda cosa è sicuramente la comunione in mano io rendo sempre omaggio io sono amico di Don Federico Portoli e dico sempre di guarda qualunque cosa fai facciamolo come San Tommaso d'Aguino con la Somma Teologia lui c'ha scritto la tesi dottorale con la distribuzione della comunione sulla mano che è un lavoro veramente straordinario scientifico dove lui praticamente ha dimostrato come purtroppo la comunione sulla mano non è stato altro che la legittimazione di un abuso questo è dimostrato questo qui non è una teoria lui lì lo dimostra documenti alla mano storia alla mano ed è chiaro che questo qui quanto per i vostri predestori la cosa più santa e più sublime si va perdendo traccia io me lo ricordo perché io me la sono letta la Somma Teologia di San Tommaso d'Aguino San Tommaso dice nessuno può toccare il corpo di Cristo se non un sacerdote ma non solo litigai tempo addietro con un sacerdote che non pure diventato vescovo esperto di francescanesimo perché io gli dicevo guarda che San Francesco che era diaco non ha mai toccato l'oste con la mano diceva che non doveva per nessun motivo essere toccata e sono i sacerdoti e lui mi contestava e diceva no 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 lui diceva che i sacerdoti offrono il sacrificio ma tutti l'amministrano e gli dico no no gli dico vai a leggere le fonti francescane glielo ha portate e ha dovuto convenire con me San Francesco d'Assisi che era diacono e lui rinunciò a diventare prete per umiltà perché non si sentiva degno non ha mai toccato con la mano la santa eucaristia per distribuire le fedeli mai allora io dico vogliamo scomunicare San Tommaso d'Aquino e San Francesco scomuniciamo San Tommaso d'Aquino scomuniciamo tutti quanti scomuniciamo San Tommaso d'Aquino e San Francesco come si fa dinanzi ad un insegnamento del genere a testimonianze di perché San Tommaso è stato forse uno dei più grandi santi di più grandi dottori scusate di tutti i tempi San Francesco è stato forse uno dei più grandi santi di tutti i tempi quindi tu hai due colossi che concordano su questo punto e tu prendi e te lo butti alle spalle e vai a introdurre dentro la chiesa cattolica ciò che per la prima volta dopo mille anni era stato introdotto tra i cristiani da chi? da Martin Plutero dico ma è la cosa grave è che è tutto normale tranquillo adesso poi dopo la nota crisi di quattro anni fa io lo sapevo questo qui già prima era un 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 48 adesso è diventato un 49 perché adesso praticamente credo che il 90 il 95% della gente forse anche di più in percentuale prenderà come noi in questo modo io per quanto mi riguarda cioè a volte avverto proprio un senso di impotenza perché io posso farci quel poco che posso farci nel mio piccolo io questo lo sempre cercavo di fare dico che ci posso fare signore mio non so né vescovo non ci diventerò mai né cardinale non ci diventerò mai né papa non ci diventerò mai che ci posso fare posso fare quel poco che posso fare nel mio piccolo nella parrocchia e nella formazione delle coscienze predicando quindi perché certamente più grande è il potere di un laico rispetto a quello di un prete perché altri preti sono almeno un laico se capisce certe cose smette di fare smette di confessarsi di comunicarsi senza senza confessarsi smette di prendere l'oste in maniera irriverente e si fa qualche peccato in meno più di questo non si può fare però prego e chi lo sa Don Leonardo nella nuova chiesa dopo il trionfo nel cuore immacolato di Maria che a mio piacendo speriamo che arrivi quanto prima la vedrai però insomma maestro adesso sicuramente no e chi lo sa chi lo sa adesso no non c'è non c'è molto spazio adesso però adesso no però magari dopo il trionfo magari lo farà come Celestino V San Celestino V no no io non faccio Celestino V niente niente scherziamo non lo faccio adesso quindi non si rimane sul campo a combattere niente questi cioè adesso ragazzi cioè veramente adesso a prescindere io ho già detto ho accettato di fare queste catechesi dopo averci pregato dopo aver letto diverse cose mi sono letto tutta la biografia di Renato Barone tutte le storie delle apparizioni tutte le cose perché a cuore e a senso e a quel poco che sapevo mi sembrava un'apparizione attendibile schio però ripeto dopo aver approfondito soprattutto ho detto queste cose capite cioè un criterio fondamentale vedete cioè questi messaggi per esempio di oggi stigmatizzano una situazione grave danno come soluzione l'unica soluzione possibile è di narsi una situazione grave qual è? lo spirito profetico il coraggio di parlare e la testimonianza che cosa vuoi fare? e la fiducia anche quindi la mia chiesa si è in pericolo ma non temete ci sarà una pesca miracolosa o va alla mia riva e tirerete le reti quindi questi caratteri sono proprio i caratteri celesti d'accordo? perché e ti dice non un atteggiamento sbagliato è quello dell'omertà e dell'indifferenza per esempio perché c'è gente che dice ah no io prego punto e basta e no e no non è io prego punto e basta tu preghi parli e testimoni senza fare il matto quindi senza assumere atteggiamenti come dire distruttivi e fuori luogo ma dinanzi alla verità non si transige la verità deve essere testimoni se ci perseguono se ci ammazzano per la verità non fa niente per altri motivi no ma per la verità sì prego sì non c'è un messaggio di Maria parlando così adesso che mi è venuto in mente qui lei diceva come potrete come potrete aiutarmi a salvare la chiesa se non sarete parte santa di essa quindi queste parole hanno una prospettiva veramente enorme senza limiti magari siamo chiamati a farlo nel nascondimento come anime vittime nessuno ci vede ma un altro messaggio la Madonna ha detto nulla andrà perduto di quello che offrirete al padre certo quindi abbiamo veramente in tutti questi disastri diciamo che vediamo attorno a noi abbiamo credo delle delle prerogative delle possibilità ulteriori quindi se siamo dalla provvedenza stati decisi in questa epoca devo dire che va bene per noi è il tempo nostro abbiamo ricordato prima non la bonanza il tempo del cristiano ma la tempesta e quindi dobbiamo vedere non in modo negativo non chiudendoci nel pessimismo ma vedere in questo delle opportunità importante però come ha detto Maria è essere sempre in grazia perché nella grazia santificante poi vuol dire tenere il collegamento sempre aperto con Dio e essere in grazia e quindi attenderci nel piccolo ma grande a cui saremo chiamati dovremmo santificarci questo è l'unico penso scopo vero Don Leomardo della nostra vita vivete questo istante terreno da veri autentici figli di Dio ha detto la Madonna maschile quindi questa nostra vita è un istante rispetto all'eternità ci sembra di essere eterni tante volte vediamo vediamo la nostra vita con un orizzonte lungo e invece magari domani mattina non ci saremo più quindi basta rispondere ad ogni istante con semplicità con gioia anche e capire che abbiamo delle prospettive abbiamo delle prospettive dell'eternità perché Maria poi mi taccio veramente ha detto un giorno Gesù vi accompagnerà il padre di serenato e allora io testimonierò per lui quindi pensate cosa vuol dire vedere all'opera l'avvocata nostra quella che noi preghiamo nella salda regina o sull'unque avvocata nostra quando avremo il nemico l'accusatore che nel nostro giudizio particolare tirerà fuori l'elenco di chichi peccati ma avremo anche l'avvocata se l'avremo assecondata se ci saremmo consacrati a lei se saremmo entrati nel suo cuore e lì tirerà fuori tutti i meriti infiniti del suo divino figlio e anche i suoi meriti ottima penso che possiamo dare la benedizione che oggi abbiamo sforato un po' ma giustamente perché questo non si poteva non leggere dominus fobiscum e con spirito tuo e con spirito tuo amén grazie Oscar Santa Norte tu ti ave maria grazie a tutti grazie a tutti